se non lo dico mo ma quando dovrei dirlo ragazzi io non posso credere a quello che cazzo ho appena visto messartato il banco ma chi poteva aspettarsi una vittoria così rotonda da parte della salernitana appena attimo ci ho pensato ho detto potrebbe pure vince 2 a 1 1 a 0 per carità e questo l'ho pensato prima dell'inizio della partita perché la salernitana ce l'ha dimostrato lo scorso anno ma ragazzi ma sta sandoria è scandalosa e quello che mi ha fregato è quello che ho visto nella partita precedente contro la juventus ma io sono un pirla un pirla detto questo sono qui per esprimere il mio parere in merito anche su verona atalanta oltre che su salernitana sandoria e visto che ieri non ho detto due paroline su spezia sassuolo mi sembra il caso di farlo ciao bentornati e ben ritrovati mi raccomando lasciate mi piace sui miei contenuti per supportarmi non costa niente lasciar mi piace ragazzi più mi piace lasciate e più vi porto post partita di questo tipo anche un po più di secondo piano se così li vogliamo definire vi ricordo anche che iscriversi e attivare la campanellina è gratis ragazzi se lo fate poi ogni volta che pubblico vi arriva la notifica sul cellulare così non vi perdete più niente inoltre c'ho altri due canali youtube canale di calcio parlano questo è un canale extra calcio dove parlo di formula 1 dove porto la carriera di formula 1 faccio un macello i canali li trovate in descrizione o compariranno qui durante il video partiamo in ordine cronologico da spezia sassuolo ieri non ho detto nulla e mi sembra il caso di parlarne perché poi nel bene o nel male di tutte le altre partite ne ho parlato è un pareggio che sicuramente fa molto meglio allo spezia no lo spezia che quest'anno insomma deve a più fretta rispetto al sassuolo di provare a salvarsi no deve cercare di mettere più punti possibili adesso sul banco per poi non dico svenire ma sicuramente gestire in maniera psicologica la situazione il sassuolo passa in vantaggio con frattesi frattesi è inutile che ragazzi lo ribadisco è un giocatore che stimo e apprezzo veramente tanto anzi io vi dico la verità perché volano 40 milioni praticamente perché se no uno come frattesi per sostituire wijnaldum sarebbe stato proprio il top bastoni ragazzi è un giocatore veramente pazzesco da fantacalcio butta sempre la palla in rete pareggia per lo spezia poi il calcio di rigore di insola addirittura lo spezia che va in vantaggio sul sassuolo a fine primo tempo e poi ragazzi il primo gol sì se non vado errato assolutamente sì di pinamonti in serie a con il sassuolo che rimette la partita in pari e sassuolo che ha qualcosa in più da recriminare perché ragazzi andiamo a guardare dato statistico il sassuolo ha creato molto di più dello spezia addirittura due tiri nello specchio dello spezia due gol rispetto agli otto nello specchio e 21 totali sono partite in cui si può incappare anche in questo ovviamente detto questo un punto l'ho detto e lo ripeto che fa più bene lo spezia che al sassuolo ovviamente un punto del genere non lo butta via e ragazzi io prima di parlare dell'Atalanta che è ancora in bilico ma praticamente è finita guarda fanno 15 gol io devo per forza di cose entrare nei meriti di questa partita ma regà sta Sampdoria io credo che il segnale che la Salernitana vincendo questo scontro diretto per la salvezza è inutile che ce nascondiamo con la Sampdoria è un segnale forte che lancia la Sampdoria e la Sampdoria potrebbe secondo me risentirne dal punto di vista psicologico in realtà il ragionamento che io facevo prima della partita della Sampdoria con la Juventus era quello che sto facendo adesso no è la partita con la Juventus che mi ha destabilizzato perché ho visto una Sampdoria quadrata comunque solida una squadra in grado di reggere anche con una grande serie A come ti sei presentato alla Rechi contro la Salernitana praticamente non c'è mai stata storia ragazzi di A che giocatore Bonazzoli dominio dei Granata ragazzi perché nel primo tempo è stato veramente un dominio di quelli clamorosi con la Sampdoria che ha regalato almeno mezz'ora 25-30 minuti in cui proprio completamente impalpabili ragazzi la Salernitana ha tirato ha tirato ha tirato ha tirato e non dico che ogni tiro ha fatto un gol ma quasi ripeto di A Bonazzoli che gli fa assist di A tra l'altro Vilena Vilena un altro assist di Diamo che ci penso bene in occasione del gol di Boteim che la butta dentro e questa Sampdoria che si ridimensiona ulteriormente che deve un attimo anche rivedere la sua situazione declassifica perché in tre partite ragazzi fa solamente un punto e ripeto questo è lo scontro diretto pesante che tu perdi la Salernitana può con questa vittoria a livello psicologico indirizzare il proprio il proprio campionato scusatemi con più tranquillità e dire se abbiamo battuto una come la Sampdoria in questo modo in una maniera così rotonda se sta a scaricare la batteria dimostrando anche manifesta superiorità ti metti una squadra in più alle tue spalle perché non dovresti quest'anno salvarti con più tranquillità la Sampdoria potrebbe cominciare ad avere le ansie da prestazione cioè paradossalmente pareggi con la Juventus perdi con l'Atalanta e vabbè c'è posta ma con la Salernitana io non dico che mi aspetto una vittoria dalla Sampdoria ma almeno che in punto lo strappi o comunque se perdi devi perdere misura con una squadra di questo tipo cosa che non è assolutamente successa quindi molto curioso di vedere poi come addrizzerà e scusate il termine il tiro Gianpaolo e la Sampdoria stessa in ottica partite future un punto in tre partite un bottino veramente magrissimo e il punto lo fa con la Juve e poi parliamo ovviamente anche di Atalanta mi sposto sulla partita dell'Atalanta perché ragazzi l'Atalanta diciamo che è una squadra quest'anno comunque molto particolare e sta vincendo di Orto Muso manca pochissimo ma io credo che questa partita se la porterà a casa e la vincerà è una squadra alla fine ragazzi che sta portando il risultato più importante perché o vinci 1 a 0 o vinci 5 a 0 alla fine sono i tre punti che contano no? La prima l'ha vinta proprio con la Sampdoria 2 a 0 con il Milan ci sta a pareggiare sono pur sempre i campioni d'Italia in carica questa partita ragazzi alla fine secondo me il Verona non è che è stato da meno ci ha avuto le sue le sue opportunità le sue occasioni l'Atalanta forse ecco primo tempo comunque regà pochissime palle collo io non me ne ricordo manco una poi stavo vedendo boh mi sfugge ma stavo vedendo diretta quindi ogni tanto somperellava da una parte e dall'altra ma ci fossero state occasioni pericolose ovviamente avrebbero sicuramente detto qualcosa e non mi ricordo niente di quel tipo e nel secondo tempo è già successo qualche volta l'Atalanta diciamo che comincia a prendere il pallino del gioco in mano comincia subito a a a svoltare diciamo la partita sotto sto punto di vista nel frattempo finisce la Salernitana ragazzi mamma mia ci tengo a precisare di quanto Ederson secondo me può essere importante per questa Atalanta lo abbiamo visto anche oggi è un giocatore che c'ha delle qualità di inserimento c'ha delle qualità di tiro da fuori e non solo calciatore che per il fantacalcio ve lo consiglio non piatelo perché se no vese scoccia ma copmainers ripeto porta in vantaggio la stessa la stessa Atalanta sinistro secco da lontano Montiponci arriva e a palla che si infila nell'angolino basso 1 a 0 per l'Atalanta ma l'Atalanta diciamo che ha preso un po' più di consapevolezza col vantaggio però il Verona ragazzi secondo me non è stato da meno nel senso hanno provato hanno preso anche la traversa e hanno provato a fare a fare qualcosa è quella classica partita che l'Atalanta la dovrebbe chiudere non dovrebbe portarla al 95esimo sul punteggio de 0 a 1 e che ci hanno anche le qualità in realtà per chiudere perché insomma a livello tecnico ragazzi ci hanno giocatori importanti Atalanta che in più di un'occasione non solo quest'anno ma anche l'anno scorso non ci riesce forse perché anche spreca un po' troppo e comunque tengono in piedi la partita no tengono questa partita questa partita viva ma rischiano per la controparte ovviamente di subire il gol del pareggio la partita è terminata perché mancano 10 secondi ragazzi il risultato dice che l'Atalanta vince che attualmente ha 7 punti ovviamente c'è solo una squadra che può fa meglio di tutte quelle che attualmente hanno 7 punti e sono tutte appaiate in vetta alla classifica ossia il Napoli che gioca questa sera contro la Fiorentina sono curiosissimo di vedere se il Napoli riuscirà nell'intento di vincere questa partita finisce anche la partita dell'Atalanta ragazzi miei e questo è quanto fatemi sapere voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti l'Atalanta che insomma magari non sorprenderà non sta sorprendendo dal punto di vista dei risultati però è lì non so se avete capito in ciale coppe quest'anno mi piace commentate condividete iscrivetevi a tutti i canali social in descrizione e contenuti consigliati va salernitana che fa sandoria che figura di merda